si sono in aeroporto ho preso l'ultimo volo di partita brindisi per madrid detto perché no avevo voglia di spagna e l'ho preso adesso mi aspetta un volo di tre ore andiamo a vedere un po madrid poder boyas dio come sta stio mi sto già allenando un po e siccome domani è venerdì proveremo lo smart working anche in spagna e a madrid alla fine sono arrivato a plaza di spagna all'una e mezzo non vedo l'ora di lasciare i bagagli mettere tutto a posto e dormire porco dame madrid un giorno da madrid 8 20 ancora il sole non è sorto andando a lavorare oggi venerdì fa freschetto ora sono quasi arrivato ad un co working dove lavorerò tutto il giorno oggi lì si chiama co work cafe santander ce ne sono vari sparsi qui a madrid e la cosa che è figa che è gratis puoi consumare stare lì andiamo a vedere com'è pausa lavoro parte del cala la spagna mi riesce sempre a sorprendermi io mi trovo davvero bene soprattutto qui a madrid ci sono solo una volta sono tornato per vedere come ci si trova anche a lavorare smart working purtroppo oggi non mi potrò tutto il giorno in questa fantastica città ma già stare a contatto con le persone del posto mi fa vivere vibes buone top città in europa top per cambiare ho deciso di andare un altro caffè per mangiucchiare qualcosa e per provare un'altra esperienza questo si chiama nomade caffè ci ha il bar sopra e questa è una sezione sotto per nomadi per chi lavora online c'è l'acqua come qualsiasi con walking io amo tutti questi dati che offrono la possibilità di lavorare con il computer perché non farlo un giorno me lo aprirò sono certo questo è un po stile vintage retro ci sta e vamoci a trabacare ora ho preso un avvocato tosto e un caffè che ha presito sempre buono a un'altra cosa da valutare che tutti questi posti hanno un super caffè buonissimo per stare qui a madrid ho preso uno stello per 5 volte anche perché sono i giorni di halloween tutte le stanze vengono le stelle preferito stare uno stello lo stello carino 50 euro a notte adesso per un posto si chiama tocco poste magno non c'è letto questo è letto che c'è luce e questa è la vista molto spagnola questo sono io con una bella luce della tarde sera per 50 euro a notte va benissimo basta stagione lo trovi a denti 30 euro per entrare nella stanza impronta digitale adesso il nostro praticamente questo è l'ostello e c'è già vita la cosa buona è che appena esce dagli ostelli stanno sempre nel centro nelle vicinanze la quantità di gente che sta in giro è impressionante tutte le strade sono affollate c'è tanta gente e questa cosa mi gusta mucho bello bello si respira un'aria sociale bella che tal che tal questi giorni andrò sicuramente a qualche festa halloween penso qua combinano un macello un delirio e fa anche abbastanza caldo per essere in ottobre con maniche corte e una giacchetta ma qua dove c'è la scritta tio pepe sol questo è solo una delle piazze principali vicino alla grandia adrid è un'ottima palestra per fare vlogging perché un sacco di gente è impossibile non stare circondati quindi è anche un test da parte mia anche un test perché se non prendi la mano con queste cose hai sempre quella timidezza a fare video in pubblico però chi se ne fotte over se riesco questo è un test di daily vlogging giorno vorrà andare in una meta e vloggare tutti i giorni da quella città ho fatto un sondaggio su youtube e voi avete detto australia il 69 per cento ha detto australia punterò ad andare di nuovo so che chi mi segue è interessato l'australia i video sono andati benissimo ma vediamo un po comunque se sei arrivato a questo punto del video e ti interessano i daily vlogging scrivi un commento daily vlogging si praticamente c'è tutto in ristrutturazione ho scoperto che i musei qui a madrid prima dei 26 anni sono gratuiti giusto in tempo 24 a can hunter 24 vabbè 17 ancora parco del retiro questo è uno dei parchi più belli e più grandi di tutta madrid infatti molto curato niente che passeggia zero spacciatori approvatissimo e puoi venire qua a fare un picnic a studiare lavorare anche direi un ottimo spot per lavorare a vista di sbirri con il cavallo ti puoi godere anche un tramonto del genere allora seduto su questa panca qui nel parco del retiro voglio riassumere la giornata di oggi come avete ben visto oggi non ho fatto altro che lavorare e stare un po in giro per la città senza un po uno scopo era era questo il mio obiettivo vivere un pochino le vibes tranquillamente di una cittadina spagnola che è madrid che posso tranquillamente collocare secondo la mia personale esperienza come seconda grande città metropoli o capitale d'europa per vivere bene lavorare bene e con un costo della vita non eccessivamente elevato per i servizi che offre in prima posizione metto varsavia seconda madrid io amo barcellona quindi dice tutto ottimo trasporto pubblico puoi andare ovunque sia a piedi il centro è grandissimo ma è percorribilissimo a piedi sia con la metro tram bus con qualunque cosa cibo mangiare comita assurda qui puoi trovare qualsiasi tipo di cosa che sia vegana vegetariana o locale e mangi bene e non con un costo eccessivamente alto perché se pur sempre una capitale adesso con l'inflazione i prezzi si sono alzati però la qualità è sempre buona il prezzo è giusto oltre che puoi trovare 100 montaditos o altre soluzioni per spendere davvero poco non dico mcdonald's perché siamo in europa c'è anche di meglio dove puoi prendere panini a un euro cerveza birra un euro 52 euro quindi molto molto valido per lavorare per lavorare in smart working come titolo da questo video oppure da remoto è consigliatissima un sacco di work in co living co work cafe tutto quello che puoi desiderare qui c'è e sono ben pochi posti che offrono questa qualità e questo stile di vita è un plus un ultimo plus che non è da trascurare la gente socievole è davvero calorosa qui puoi trovare la gente più colorosa della spagna devo ancora andare al sud però qui rispetto a barcelona io parlo di barcelona cambia le cose cambiano quindi è un punto a grandissimo favore a parte che le strade sono sempre piene qui c'è un parco artisti di strada gente che passeggia gente felice non stressate se non è capitale però la gente non è stressata anche perché stamattina era tutto chiuso ancora alle otto e mezzo si vive la vita con me sappiamo fare bene noi italiani qui oggi è venerdì quindi credo se tutto va bene mi faccio anche un giro questa sera per provare un po di movida madrilegna per allenare il mio spagnolo che puoi parlare tambien spagnolo tio tengo che al desir tio tutto il dia e bevere cerveza e vale vamos a ver quindi let's go to explore questa città